Da quanti anni non si svolge questa iniziativa Fano? Allora, sono tre anni che a Fano non c'è più la festa della pace. Quest'anno abbiamo ripensato a una marcia, una marcia unitaria, cioè giovani, adulti e ragazzi insieme che pregano per la pace. Perché soprattutto in questo periodo è sempre più difficile riuscire anche a essere in pace con il proprio compagno, col proprio amico. Quindi pensiamo di partire da qui per essere in pace con tutti fino agli estremi confini della terra. Abbiamo pensato questa marcia appunto che parte dalla stazione ferroviaria alle 15.30 e percorre il centro città fino ad arrivare in cattedrale dove ci sarà una preghiera guidata dal Vescovo e insieme a noi ci saranno anche le autorità. In più abbiamo invitato le associazioni del territorio di Fano. Vi aspettiamo domani alle 15.30 in stazione e potete partecipare, anzi dovete partecipare, più siamo e più forte è la volontà di fare pace.